Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Il mondo di Fallout è costellato da minacce e pericoli di ogni sorta, radiazioni, bande di predoni, fazioni aggressive e come non dimenticare i vari mostri, dagli insetti giganti ai granchi deformi. Tra i mostri del titolo di Bethesda godono di grande fama i mitici Deathclaw, i predatori alfa delle zone contaminate. In questo video esploreremo la storia e le caratteristiche dei feroci Deathclaw, senza dimenticare le loro origini. Partiamo subito da un aspetto fondamentale. I Deathclaw non sono nati in seguito all'esposizione alle radiazioni post-guerra nucleare. Le loro origini affondano nel mondo prebellico e nel campo dell'ingegneria genetica. Gli scienziati americani partirono dal DNA del Camaleonte di Jackson, un rettile diffuso in Africa orientale. Lo alterarono e lo fusero con quello di altre creature. Da alcuni è stato ipotizzato che venne usato anche DNA di Velociraptor o affini. Una cosa è certa, i Deathclaw vennero pensati e progettati per essere delle macchine da guerra, delle feroci e resistenti creature da schierare sul campo di battaglia, in missioni ad alto rischio. In questo modo si sarebbero risparmiate vite e umane. I Deathclaw vennero progettati per agire autonomamente nelle situazioni di combattimento, senza quindi la necessità di una guida umana o di un sistema di controllo. A quanto sappiamo, nessun Deathclaw venne effettivamente dispiegato in battaglia durante la guerra sino-americana. Ho dedicato un video alla guerra, a cui vi rimando per maggiori dettagli. A seguito della devastazione atomica dell'anno 2077, diversi esemplari di Deathclaw finirono in libertà e cominciarono a colonizzare le distese americane, divinendo una delle specie dominanti. I Deathclaw sono animali fortemente sociali, si organizzano in gruppi o branchi di circa 20 esemplari, con a capo due individui alfa, un maschio e una femmina. Questi super predatori seguono ovviamente una dieta carnivora, mangiano qualsiasi cosa gli capiti a tiro e sono fortemente territoriali. Le loro tane o nidi si trovano di solito in zone remote e disabitate, non amano il contatto con l'uomo e se possono se ne stanno per conto loro. Quando un gruppo di Deathclaw sceglie una determinata zona per nidificare, è consigliabile abbandonare la suddetta zona. Avendo dentro di sé DNA di camaleonte, anche i Deathclaw depongono le uova, che vengono poi custodite dagli esemplari maschi. I piccoli di Deathclaw nascono tutto sommato deboli, per questo vengono fieramente protetti dall'intero branco. Nelle varie zone contaminate, le uova di Deathclaw vengono considerate delle vere e proprie prelibatezze, soprattutto se preparate in formato di omelette. Ciò ha spinto alcuni a dedicarsi al commercio delle uova, un lavoro a dir poco pericoloso. Un gruppo di gunner venne inseguito e poi fatto a pezzi per aver rubato un singolo uovo di Deathclaw, giusto per darvi un'idea del loro istinto di protezione verso la prole. A livello fisico i Deathclaw sono creature bipedi alte circa 3 metri, con lunghi e forti arti superiori che terminano in grandi mani artigliate. I Deathclaw sono veloci e resistenti, la loro pelle è capace di sopportare traumi violenti e persino i colpi di armi di piccolo calibro. Sulla testa campeggiano delle vistose corna. La forza dei Deathclaw è impressionante, in Fallout 4 li possiamo vedere mentre scagliano via i resti di vecchie auto arrugginite. I loro sensi più sviluppati sono olfatto e udito, mentre la vista è tutto sommato debole se paragonata a quella di altre creature. Essendo discendenti dei camaleonti, essi posseggono una sorta di pollice opponibile, sono inoltre capaci di alterare la pigmentazione della pelle in risposta a diversi stimoli e situazioni. Ad esempio possono cambiare colore se pronti ad aggredire un bersaglio. I Deathclaw posseggono una resistenza eccezionale alla fatica. Alcuni esemplari sono stati visti inseguire la preda per ore e ore senza interruzione. Sfuggire a un Deathclaw affamato o determinato ad uccidervi può essere piuttosto difficile. Nonostante la stazza imponente, i Deathclaw sono alquanto agili. Spesso tentano di schivare i colpi delle armi da fuoco, retaggio delle loro primigenia funzione bellica. Come detto in precedenza, la dieta dei Deathclaw è prettamente carnivora. In generale cacciano praticamente qualsiasi preda, con poche eccezioni. I Deathclaw sono in grado di comunicare tra loro tramite ruggiti e suoni gorgoglianti. Anche prima di attaccare la preda, spesso si esibiscono in possenti ruggiti capaci di far gelare il sangue anche ai guerrieri e agli avventurieri più coraggiosi. Insomma, i Deathclaw posseggono tutte le caratteristiche fisiche di un superpredatore, ma come se la cavano in fatto di intelligenza? In generale sono piuttosto intelligenti, sanno tendere in boscate e, come abbiamo visto, hanno una struttura sociale solida. In Fallout 2 compaiono i cosiddetti Deathclaw intelligenti. Le Inclave, una delle fazioni che sopravvissero la Grande Guerra, condusse diversi esperimenti sui Deathclaw con l'obiettivo di usarli in combattimento. Somministrandogli il virus di evoluzione forzata, lo stesso che creò i supermutanti, si ottenne un risultato eccezionale. I Deathclaw impararono a parlare e ad apprendere a ritmi accelerati. Alcuni di questi Deathclaw intelligenti fuggirono dalla stessa Inclave e vissero in natura. Questi Deathclaw intelligenti non sono aggressivi. Se si usa un approccio cauto, niente armi spianate insomma, è possibile interagire con loro senza grossi problemi. In Fallout 2 compare un certo Grutar, un Deathclaw intelligente che guidò i suoi simili nel Vault 13, che divenne la loro casa. Le Inclave eliminò con brutale e ferocia questa comunità di Deathclaw. In Fallout 3 sempre le Inclave tentò nuovamente di sfruttare i Deathclaw, questa volta ricorrendo a un dispositivo tecnologico di controllo mentale. Durante le nostre avventure in Fallout abbiamo incontrato varie tipologie speciali di Deathclaw. Oltre ai già menzionati Deathclaw Alpha, esistono quelli luminescenti, che hanno assorbito una massiccia dose di radiazioni. I Deathclaw Albini, che appaiono spesso più forti e più aggressivi rispetto a quelli standard. I Deathclaw Camaleonte, la cui pelle cambia colore più spesso. Le Matriarch e i Deathclaw solitari, i quali vivono al di fuori dei branchi. Ciò li può rendere più inclini a comportamenti imprevedibili. Ma se un giorno vi trovaste improvvisamente teletrasportati nell'universo di Fallout, che cosa dovreste fare per sopravvivere a un attacco di un Deathclaw? Se non siete adeguatamente armati, l'unica scelta sensata è darsi alla fuga. Tuttavia queste bestie sono veloci e non molano facilmente la preda. Meglio cercare un rifugio o arrampicarsi da qualche parte. Se invece avete la fortuna di indossare una maestosa armatura atomica, potete optare per un approccio più aggressivo. Attenzione però, gli affilati artigli dei Deathclaw sono in grado di danneggiare anche le placche metalliche di un'armatura atomica. Meglio andarci giù pesante con armi varie prima che sia troppo tardi. Dagli artigli dei Deathclaw viene anche ricavata una letale arma da corpo a corpo, denominata a mano di Deathclaw, capaci di infliggere gravi ferite. Circa i Deathclaw di Fallout 4 online circolano alcune interessanti teorie. A livello fisico appaiono un po' diversi rispetto a quelli di Fallout 3 e Fallout New Vegas. Quella che potrebbe essere una mera scelta di design, visto anche il cambio di motore grafico, ha indotto alcuni a pensare che i Deathclaw del Commonwealth di Boston siano a una versione differente, magari creata in qualche laboratorio situato proprio nel Massachusetts, magari dal celebre CIT, il predecessore dell'istituto. Sappiamo che l'istituto condusse delle ricerche eticamente e moralmente mostruose sul virus di evoluzione forzata, ma non ci sono registri ufficiali che parlano di ricerche, anche prebelliche, sui Deathclaw. Segnalo inoltre che anche i Deathclaw di Fallout 76 presentano il nuovo design, quindi credo che si tratti solo di una scelta artistica, una scelta che ritengo alquanto azzeccata. Prima di concludere il video, un'ultima curiosità sugli affascinanti Deathclaw. Essi compaiono in tutti i capitoli di Fallout, solo poche altre creature vantano questo traguardo, e credo proprio che compariranno per tutta la vita del franchise. Questa analisi dedicata alla Lorde Deathclaw si conclude qui. Spero che possa esservi piaciuta, magari un giorno farò partecipare i super predatori di Fallout a un video versus, ovviamente contro un avversario all'altezza della fama e della ferocia dei possenti Deathclaw. Come di consueto vi aspetto nella sezione commenti per un po' di dibattito e confronto, anche se avete suggerimenti sono sempre pronto ad ascoltarvi. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale perché no attivate la campanella, se volete supportare le mie creazioni potete farlo tra la funzione abbonamenti oppure Paypal e tp link in descrizione, sui social cercate Lorenzo Divus. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! 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 Grazie a tutti.